Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati qui su The Another World, la nuova serie che ho iniziato pochi giorni fa qua su Farming Simulator 22, sull'omonima mappa prima di cominciare vi ricordo che in descrizione c'è Twitch dove sono i live tutte le mattine e tutte le serie se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis e sostenere il mio lavoro ed entrare nella fantastica chat e telegram per gli abbonati poi c'è anche il tastino super grazie per aiutare e sostenere questo canale, questa piattaforma se ce l'avete a cuore, se ci tenete, se mi ritenete meritevole nella giornata di ieri mi hanno offerto il loro caffettino con il super grazie Matteo Gagliano e Antonino Celentano, anzi Antonio Celentano, chiedo scusa Antonio Celentano e Matteo Gagliano e a loro dedico il video di oggi grazie, inoltre ci sono tutti i miei social in descrizione, il link per comprare i giochini scontati di System Gaming e per acquistare tutto quello che riguarda Giants dai miei link di affiliazione partner allora, ragazzuoli, iniziamo come avete visto l'ultima volta ho acquistato questi campi quella patate poi ho deciso di interrarlo e ci semineremo altro ho già raccolto frumento e colza che erano seminati sugli altri campi uno è a erba e fino a qui c'eravamo quello che non avete visto è il fatto che avevo di default il gioco mi ha dato anche questo pascolo qua vicino al campo 210 che per il momento non userò perché ce l'ho in farm l'altro pascolo quindi userò quello, ma più che altro ho comprato l'uva ho comprato questo pezzo qua che è ad uva in realtà c'era anche qua i terreni ad uva c'erano anche qui sotto il 167 da queste parti qui però erano veramente, a parte che costava un botto il terreno ma erano troppi poi che li lavora tutti quei vigneti invece ho preso questi che sono un pochino di meno visto che siamo ad agosto è tempo di raccoglierli purtroppo me li hanno dati così come vedete con l'erbaccia non fertilizzati quindi stiamo raccogliendo con la nostra Ero ovviamente affittata e stiamo raccogliendo quello che possiamo insomma, ho già iniziato in live finiremo in live ma intanto andiamo avanti perché ho deciso di comprare l'uva? perché sono andato un po' a spulciare i prezzi delle varie cose insomma da produrre e devo dire che conviene tantissimo iniziare con la produzione dell'uva cioè la lavorazione dell'uva perché oltre che fare il succo d'uva ma io lo chiamo vino insomma oltre che fare il vino possiamo fare anche l'asceto di fragole l'asceto al miele l'asceto normale e inoltre la grappa e tutte queste cose qua ce le pagano un botto ragazzi un botto perciò ho deciso in questa puntata di iniziare con questo tipo di produzioni inoltre poi per quanto riguarda i campi semineremo il mais perché col mais poi faremo il popcorn e anche lì popcorn al miele popcorn insomma vari tipi di popcorn e questo ovviamente ci porterà anche a mettere giù le api e poi ci sarà anche la possibilità di fare olio di mais che ce lo pagano veramente bene bene quindi iniziamo adesso a concentrarci su mais e uva oltre che ovviamente dovrò fare piena ragione dovrò ho raccolto già il frumento quindi c'ho la paglia sul campo da raccogliere perciò poi faremo insilato vediamo se fare proprio l'insilato insilato d'erba perché vorrei anche iniziare con le vacchette intanto qua io sono pieno datemi un attimo datemi un attimo che facciamo il primo scarichetto devo dire che sono stato contento che a molti è piaciuta questa mappa ho letto che molti l'hanno scaricata quindi sono contento che vi è piaciuta del resto io scelgo sempre molto accuratamente diciamo le le mie mappe qualcuno mi ha consigliato pure la la mappa polacca però ragazzi sapete che sono belle le mappe polacche ma l'abbiamo fatta la serie polacca ho capito che io sono il primo nostalgico il primo insomma il primo che si che ama rivivere il passato che si affeziona al passato però direi ragazzi guarda avanti ce l'abbiamo già fatta la serie polacca non famo le solite minestre riscaldate insomma la serie polacca è stata una delle migliori serie sul 19 e sono sicuro che qua sul 22 ci saranno serie altrettanto belle altrettanto promettenti non vi preoccupate non c'è bisogno di ripete no? le cose passate ma ci rinnoviamo un pochino tra l'altro questa aero ragazzi è spettacolare è spettacolare perché senza senza bisogno della gps vado dritto lo stesso cioè il fatto che c'ha il raccoglitore proprio sotto al volante e che è anche aperto c'è il vetro quindi vediamo ma anche senza vetro vedete cioè basta andare al centro col manubrio è spettacolare l'aero è da quando è uscita l'aero credo di non aver più usato le Broad e credo che non le userò più perché non cioè questa è dieci dieci passi sopra se non l'avete comprata l'aero se non ce l'avete fatelo perché è un grande acquisto sta mod è qua la trovate sul mod hub ufficiale credo che sia nella categoria DLC perché si è una mod ma è è a pagamento quindi è considerabile DLC veramente bella 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 una signora mod insomma ecco qua due settimane sono due o tre settimane che c'è una moria assurda speriamo che questa sarà una settimana migliore a livello di modding mamma mia mamma mia così ho deciso di cercare di diversificare un po' il gioco di aprire una nuova serie perché cerchiamo di prendere qui qualche spunto in più qualche cosa in più perché da quello che ho capito se stiamo aspettando le mod diventiamo vecchi qua e non immaginate lo scheletrino appoggiato sul tavolo no? il meme e sotto aspettava l'arrivo l'uscita di nuove mod interessanti ecco e non fa quella fine lì direi che questa nuova serie una nuova mappa era l'unica soluzione possibile e fattibile facciamo un po' di cap view bellina proprio bellina proprio mi piace stare accoglitrice abbiamo già fatto metà campo penso più o meno metà campino metà cappone abbiamo fatto il cappone adesso facciamo ecco riempiamo diciamo di uva tutto il carro e poi andiamo ad attivare questa questa nuova produzione e dobbiamo mettere giù anche le api perché sarà possibile fare anche l'asceto di miele perciò le apine servono assolutamente in farm ecco fatto andiamo su poi faccio piccolo tagliettino finisco di di riempire il carro e buttiamo dentro sta roba a parte che potrei anche buttar dentro così e via perché ho paura che mi passa troppo tempo ne devo far guardare ne devo far mezzo campo ancora no dai facciamo così butto tutto dentro e adesso attiviamo la produzione con questo che c'ho insomma e poi ritorno qua la produzione di uva è proprio davanti la produzione scusate la lavorazione di uva è proprio davanti alla farm non vi potete sbagliare molti si sono lamentati del fatto che alcune stalle alcune produzioni non le vedi se non compri il terreno ragazzi ma io sono d'accordo con voi ma era così anche sulla sulla coronella non credo che sia un bug credo che sia proprio una cosa voluta da alcuni modder e a me non piace sta cosa sono d'accordo con voi perché mi nascondi in mezze potenzialità della mappa e poi se io devo comprare un terreno un lotto una stalla come faccio a comprarla se non so che esiste se tu non me la mostri sul PDA come faccio a comprarla quindi mi auguro che questa cosa qua se è voluta sia corretta dal mapper dai modder modder non mettete le cose invisibili sul PDA perché poi noi non sapemo che ci sono non so come dirvelo insomma ragazzi è abbastanza ovvio che io non posso comprare una cosa che non vedo è come se il negoziante non mi mette la roba in vetrina come faccio a comprarla ecco quindi questo è un problema molto molto grosso per questo tipo di mappe che hanno questo tipo di sistema qua comunque andiamo in farm dai taglietto allora come vi ho già detto la lavorazione dell'uva dovrebbe essere proprio davanti alla farm principale però dovrebbe essere qua da queste parti da queste parti qua bello il centro paese eh sta mappa ovviamente simula un po' la mappa alpina no? una mappa tra le alpi tra i monti eccetera eccetera lo si vede no? allora vediamo un attimino dovrebbe essere questo è lo shop eccola qua proprio davanti allo shop eccola qua eccola qua ragazzi adesso bisogna vedere innanzitutto come acquistare il tutto questo è lo scarico ecco questo è l'acquisto 80.000 euro e passa la paura 80.000 euro e passa la paura dovrei venire qua questa si dovrebbe alzare da sola fatemi far manovra perché se no dubito che ci entro ok si dovrebbe alzare da sola la sbarrotta perfetto entriamo e questa è la nostra prima produzione il nostro primo investimento sta albero in mezzo proprio proprio guarda ci sta veramente in amore è fatto proprio apposta per date fastidio con le manovre io non lo so perché alcuni mapper si divertono a face fare le manovre non lo so forse hanno un loro godimento in tutto questo non lo so però sono stati aggiunti particolari molto belli a questa produzione perché mi sa che le botte le botti laggiù non c'erano in quella di default me sbaglio allora andiamo a scaricare scarichiamo purtroppo il punto di scarico è stato spostato troppo avanti sarebbe stato più carino metterlo qua e l'uva andava lì invece di andava sotto l'asfalto però va bene allora abbiamo caricato l'uva e adesso andiamo a vedere le produzioni come vi ho già detto come vedete ci sono vari tipi di produzioni possiamo fare il succo d'uva possiamo fare l'aceto di uva l'aceto di fragole e non so per quale motivo la salsa di pomodoro la salsa di pomodoro qua alla lavorazione dell'uva va bene ma va bene quindi dobbiamo mettere anche serre di fragole e serre di pomodori che adesso andremo a mettere non è qua la produzione d'aceto di miele quindi mi so mi so sbagliato non era aceto di miele allora era gelato al miele forse quando avremo le mucche compriremo la gelateria e faremo gelato al miele quindi adesso non ci servono le api ok ricordavo male quindi adesso ce manca i pallet ce manca i pallet c'è proprio una produzione di pallet che io adesso non mi ricordavo che c'era sta stramaledizione di 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 cosa dei pallet allora innanzitutto niente innanzitutto niente cominciamo a mettere in farm questa è la nostra farm proprio insomma non proprio davanti c'è lo shop andiamo in farm andiamo in farm ecco siamo in farm allora io direi che due trincee sono troppe quindi a posto di una trincea se me la fa toglie ci mettiamo le serre che c'è fuoco due trincee sono veramente troppe ok togliamo una trincea una trincea la togliamo e qua ci mettiamo le serre serre io direi di metterci queste fatte a prato che so carine queste fatte a giardinetto non so se vi piacciono o se no ci mettiamo queste grosse che dite famo prima oddio a me piacciono di più queste pomodoresche cioè queste così fatte a pratino che carine tanto poi mettiamo la mod no vabbè mettiamo questa dopo lì devo stare a combattere la paglia il maniura avete visto quante cose vogliono non ce l'ho tutta quella roba lì ok metto giù questa faccio produrre qua direttamente serre di faccio produrre immediatamente contemporaneamente pomodori e fragole quindi facciamo così pomodori pomodori e fragole entrambe per quanto riguarda l'acqua attiviamo la mod automatic irrigation quella che avevo fatto vedere scusate non mi ricordo il tasto qual è rb qual è rb vabbè ce vado col mouse faccio prima ecco attivate automatic irrigation ve l'ho fatta vedere questa mod qua anche nella mappa italiana una mod che ci permette solo pc purtroppo di attivare automaticamente l'irrigazione per le nostre serre e le nostre produzioni così facendo mi vanno in automatico le fragole all'interno della produzione d'uva adesso io devo capire come stramaledizione fare i pallet perché penso e dubito che allo shop abbiano messo la possibilità di comprare i pallet vuoti sarebbe troppo bello e oh sì eccola oh sì oh sì modder sei un grande modder io ti amo io ti io ti bacerò io ti troverò ed io ti bacerò ragazzi abbiamo la possibilità la possibilità di comprare i pallet non dobbiamo fare per forza la silvicoltura grazie grazie modder allora spostiamoci spostiamoci e credo che li possiamo anche che li possiamo anche tanto me li faccio portacqua credo che essendo da 1000 litri non so se li possiamo prendere su a mano vediamo vediamo se li possiamo prendere su a mano addirittura o vecchi o nuovi vabbè li mettiamo nuovi vediamo un po' sì che li possiamo prendere su a mano raga giuro che non c'ho la super forza attivata eh giuro nemmeno la liftable tablet c'ho pallet cioè nemmeno la liftable pallet c'ho quindi grande grande quindi ragazzi nella categoria pallet vi trovate sti pallet vuoti oh che spettacolo che spettacolo che spettacolo che spettacolo mo vediamo quanti ce ne vanno ma che spettacolo che spettacolo che spettacolo attiviamo tutte le produzioni possibili immaginabili allora certo ci serve l'uva quindi tocca a finire raccogliere l'uva però raga tanta tanta roba tent 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 rive in inglese allora vediamo un po' datevi un attimo la produzione allora iniziamo con l'asceto d'uva l'asceto di fragole ancora le fragole non stanno aspetta questi stanno in distribuzione no pomodori distribuzione fragole distribuzione l'attuga non ce ne frega niente per il momento possiamo attivare solo allora l'uvetta adesso la lasciamo non la voglio fare adesso l'uvetta facciamo succo d'uva aceto d'uva aceto di fragole ecco le attivo le attivo così poi appena arriva appena arriva la distribuzione dei prodotti parte tutto in automatico e la salsa di pomodoro attiviamo tutto ragazzi attiviamo tutto compriamo altri cinque pallet tanto visto che la capienza massima è diecimila quindi c'è dieci pallet praticamente ecco ho fatto un casino a posto a posto quindi ragazzi abbiamo iniziato la produzione come la prima produzione che ci dovrebbe portare sordini sordini ci dovrebbe portare allora anche perché poi insomma ho preso già i primi debiti mi pare 100.000 euro di debito insomma ci servono i sordi tanto per cambiare ci servono i sordi ok ok pallet ancora di più volendo ce ne vanno e noi ce li mettiamo ce li mettiamo ah non c'ho più una lira mi sa c'ho più una lira ragazzi sto a fini i sordi e basta basta sono rimasto con 3.000 euro speriamo che qui i pallet arrivino presto perché allora io so strassicuro che i pallet conviene farseli perché sicuramente da qualche parte ci sarà una produzione dei pallet che costa però per il momento me li faccio insomma ragazzi fatemi sapere nei commenti se vi piace questa nuova produzione aceto contro aceto quello quell'altro lasciate un bel like se il video vi è piaciuto iscrivetevi io ringrazio gli amici abbonati anima vita e cuore del canale il consenso del canale di sostenere senza andare avanti portare tutti questi contenuti noi amici ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.